benvenuti bentornati su being sapiens si continua con i nostri dialoghi tra me gianandrea giacoma e gianluca bocchi oggi volevo proporre questo stimolo a gianluca l'impressione poi mi dirai tu che durante gli ultimi appunto 500 anni di rivoluzione scientifica e culturale in occidente per vari motivi è stata messa un po in secondo piano la rilevanza e la meraviglia del fenomeno mentale del fenomeno cognitivo nell'universo che può essere anche non conscio e anche del fenomeno cosciente e autocosciente che noi viviamo quotidianamente ma qualche modo anche alla cultura un certo tipo di cultura tendiamo a mettere sullo sfondo mentre secondo me è una delle meraviglie e del centro del senso del nostro esistere cosa ne pensi ma allora qui dobbiamo rifarci magari a qualcosa che abbiamo già detto rispetto alla rivoluzione scientifica no e tutto è stato tutto alcuni aspetti no magari sono più forti in cartesi o meno in altri sono stati orientati dall'urgenza di avere risposte certe no e quindi in qualche modo questa urgenza ha creato non ha messo in discussione magari certi risultati scientifici ma ha creato un'ideologia e anche l'illusione che il mondo fosse facilmente dominabile in che modo fosse facilmente dominabile lì le variabili sono tantissime però in genere la metafora privilegiata era la macchina e l'idea cognitiva fondamentale era la riduzione della varietà del mondo a poche leggi a quelle che Galileo poi ha chiamato qualità primarie allora dopo il discorso deve essere è molto più articolato perché per esempio Newton lui sapeva benissimo di aver fatto una descrizione della gravità ma non di averla spiegata tant'è vero che non lo sappiamo ancora oggi no poi soprattutto in ambito astronomico c'è stato tutto una apertura no alla meraviglia e cose del genere quindi non dobbiamo buttare via il bambino con la cor sporca diciamo così però certamente al di là dei risultati singoli c'è stata una pesante ideologia no e una pesante metafora del mondo come macchina poi in maniera ancora più radicale questa visione in certi casi non in tutti è arrivata alla presunzione di uscire fuori dal tempo e dal cambiamento cioè di trovare verità immutabili e atemporali non sempre no perché ora eh perché eh questo ha portato a sottovalutare per lungo periodo le scienze del vivente le scienze cognitive perché le scienze del vivente le scienze cognitive solo no per natura stessa storiche ed è molto difficile trovare delle leggi no alla pari di quelle meccaniche no semmai ci sono delle regolarità che però sono sempre legate contestualmente no sono sempre storiche non so faccio un esempio perché io mi occupo di queste cose se noi diciamo eh tutti gli esseri viventi oggi sul la terra hanno eh nel nel loro patrimonio genetico il DNA oppure hanno gli stessi aminoacidi del codice genetico stiamo attenti che io sto dicendo tutti gli esseri oggi viventi sulla terra quindi contestualizziamo nel tempo e nello spazio no perché in realtà il fenomeno vita eh è un fenomeno singolo non non abbiamo anche se stiamo tentando di immaginare ovviamente eh che quali sono le proprietà generali della vita è una ricerca utile ma eh come dire un po' paradossale perché noi non possiamo uscire dalla nostra unica esperienza della vita comunque interessante perché alcuni dicono che qualcosa di simile alla selezione naturale dovrebbe essere da da tante parti ma insomma questo non interessa ma quello che voglio dire che anche le regolarità più ampie no appunto il DNA il codice genetico intanto sono sorte con un processo che noi ehm abbiamo stiamo stiamo intravedendo no un processo storico no non è molto probabilmente no le strutture del vivente oggi non sono le migliori in astratto ma sono strutture eh che dipendono anche molto dalle caratteristiche della test della terra primordiale quindi potrebbero essere anche altre no e quindi c'è questo elemento di chiamiamolo di contingenza che poi non è detto che sia assoluta contingenza ma nella storicità noi sappiamo c'è la contingenza e c'è anche la regolarità è chiaro che eh certe strutture biochimiche devono servire alla replicazione del vivente alla eh all'immagazzinamento dell'informazione adesso alcuni ci dicono appunto che c'era un range per cui ci potevano essere altre scelte no da questo punto di vista ecco detto questo no ehm noi ci rendiamo conto che probabilmente ehm questo percorso al di là della terra in altri spazi non è detto che sia eh lo stesso percorso adesso sto parlando di biochimica poi dovremmo parlare di comizione non è detto nemmeno che sia totalmente diverso perché appunto cerchiamo di capire poi dalla nostra unica esperienza quali possibilità ha la vita adesso una cosa interessante è che quella che noi chiamiamo biologia sintetica cioè la produzione di acidi di acidi nucleati alternativi di codice genetici espansi eccetera eccetera fa vedere che nella natura ci sono altre possibilità perché uno dice eh ma sono gli umani che lo fanno è certo che sono gli umani che lo fanno ma noi siamo il prodotto di cosa degli umani eh siamo il prodotto della natura e quindi tutto ciò che avviene in laboratorio dopo questo non vuol dire che non dobbiamo stare attenti a mille cose però adesso io enfatizzo l'aspetto cognitivo se noi troviamo eh per fare un esempio dei microorganismi che hanno non so un codice genetico ampliato ci sono mille possibilità no eh non è che creiamo dei vostri è un processo naturale in questo caso generato da una specie molto particolare che siamo noi umani no e qui arriviamo a questo discorso no della mirabilità delle dell'esperienza umana e della cognizione in genere che noi siamo un prodotto dell'evoluzione ma per molti versi nel bene o nel male no io non adesso non sto a fare valutazioni siamo anche usciti fuori eh da certi apparenti possibilità dell'evoluzione no come dice Svart Kaufman abbiamo invaso il possibile adiacente dell'evoluzione no e e qui la cosa interessante perché nella narrazione scientifica no alcuni dicono ma noi siamo il terzo scimpanze no nel senso che se noi ci vedessimo dal punto di vista eh genetico e anatomico eh noi abbiamo delle caratteristiche molto simili alle scimpanze non variamo tanto geneticamente non variamo eh tanto anche anatomicamente per cui alla fine no questo ci dice vabbè siamo un animale come tanti poi se noi pensiamo alle nostre capacità cognitive invece eh sembra perché poi qui è tutto da vedere che abbiamo creato un mondo eh totalmente nuovo quello che si chiama l'anosfera no e la domanda è ma qual è il legame tra la biosfera e l'anosfera no perché Morain ci dice proprio che c'è un paradosso no perché da un lato noi siamo cento per cento biosfera dall'altro siamo anche cento per cento nosfera e lui parla di uomo penisolare perché ha le gambe piantate nella natura e poi ha creato qualcosa di nuovo chiaro che tutto questo è comunque un prodotto dell'evoluzione è un prodotto della storia quindi una caratteristica fondamentale dell'evoluzione della vita di cui ci dobbiamo stupire è che nella storia si creano cose nuove no gli esseri umani non potevano essere dedotti dai batteri di miliardi di anni fa naturalmente no e questo ci rende come dire eh appassionati alla nostra storia no io ho scritto anche questa cosa no che eh c'è la retorica no che dopo Copernico ehm insomma in qualche e dopo Darwin no la terra è stata ridotta a un pianeta come tanti altri e la specie umana è stata ridotta a eh una specie come tanti altri no e quindi che la storia che parlare dell'umano non è particolarmente interessante no io ho letto questa cosa assolutamente al contrario sì siamo un pianeta come tanti dal punto di vista geochimico no delle proprietà fisiche ma ospitiamo una biosfera ce ne saranno tantissimi altri nella terra nel nell'universo però per ora è l'unica biosfera che abbiamo e non è una biosfera è una biosfera complessa che dipende da miliardi di anni di evoluzione no quindi è un'emergenza molto forte da questo punto di vista poi comunque vogliamo vedere la continuità o la discontinuità tra questa biosfera e l'anosfera un'altra emergenza naturale è l'anosfera no che chiaramente adesso leviamo l'aspetto di unicità cognitiva che agli esseri umani magari non sappiamo sicuramente che la capacità cognitive che so delle piante o del polpo sono importanti infatti dobbiamo anche stupirci di questo però è anche vero che il cervello umano è l'organo di maggiore complessità per quanto ne sappiamo noi dell'universo e probabilmente le sue cellule sono 100 miliardi sono tutte stime ogni cellula neurone comunica con un numero elevatissimo di altri neuroni quindi immaginate che cosa che raffinatezza avviene anche che cifre di relazioni che ci sono nel cervello e poi sappiamo che anche i collegamenti tra i neuroni non sono del tipo tutto niente no ma possono essere modulati no allora a prescindere dalla preistoria che c'è delle nostre capacità neurologiche cognitive nel mondo animale perché sicuramente c'è una preistoria importante adesso è emersa questa novità di un cervello ipercomplesso che ovviamente produce comportamenti ipercomplessi nel bene nel male cioè appunto qui c'è c'è la comprensione no che oggi che è un momento storico in cui onestamente la psicologia deve stare molto attenta a quello che gli dicono le scienze del vivente ma che con molta fatica però c'è un buon legame oggi una buona interazione tra la psicologia e le neuroscienze noi ci rendiamo conto e le capacità cognitive degli umani sono elevate nel bene ma anche nel male no ma quello che voglio dire la psicologia non deve essere limitata alle patologie allo studio delle patologie non perché non siano importanti ma perché tra l'altro le patologie oltre che c'è un bisogno sociale individuale no il povero il medio ma quello è un altro aspetto pratico ma le patologie non sono deviazioni dell'umano ma sono strade che ci portano a comprendere delle possibilità dell'umano che poi non sono tante volte no così lontane dal dal pensiero creativo no perché noi se vediamo le singole biografie dei creatori no poi vediamo le caratteristiche singole psicologiche neurologiche di questi creatori che voglio dire in qualche modo sono considerati normali o patologici non su un piano scientifico ma dallo stigma sociale che gli viene gli viene dato a un certo punto non so è evidente che Einstein aveva alcuni problemi tipo che quando studiava la relatività generale se non c'era la sua seconda moglie che lo faceva mangiare e dormire lui sarebbe andato non sarebbe sopravvissuto purtroppo è chiaro che era strano anche se poi molti andava a Reichstag in pigiama eccetera eccetera però dopo lui ha avuto una valutazione sociale come genio eccellente no vabbè allora dice gli si è perdonato tutto certo perché il suo risultato è stato talmente eccellente no che gli si è anche perdonato il fatto che si sacrificava e non andava a dormire no ma per dire che non è un luogo comune no il genio e la patologia qualche volta sono legati in tutti gli esseri umani ci sono elementi di possibile genialità di possibile creatività e anche di possibile patologia ed è chiaro che poi dopo anche uno degli aspetti no che per sottolineare un'altra volta cioè il percorso dell'individuazione ha molto a che fare con questo no perché ti rendi anche conto delle tue chance cioè delle tue dei tuoi aspetti come si dice privilegiati quindi le carte che devi giocare ma anche dei rischi che porti cioè tanto per dire un discorso che va molto al di fuori del discorso scientifico lavorare abbastanza va bene lavorare tanto dipende lavorare troppo è pericoloso dov'è il confine con la patologia chiaramente non dipende da un singolo fattore ma dalle pressioni sociali dalla capacità dell'individuo anche del suo percorso di individuazione e di autoanalisi no quindi voglio dire è chiaro che le scienze del vivente hanno avuto questo grande merito di introdurre la storicità l'emergenza il cambiamento onipervasivo poi oggi ovviamente su questa base si può fondare delle scienze umane che in qualche modo siano più diciamo realistiche che tocchino più da vicino la fenomenologia degli esseri umani sì bisogna vedere di parli appunto di individuazione cioè bisogna vedere individuo per individuo come è la dialettica tra la sua parte creativa e la sua parte disfunzionale non si possono usare delle regole dall'alto a chi appiattiscono sono assolutamente d'accordo ci sono diversi fattori che secondo me non ci fanno perdere di vista la meraviglia dell'essere un fenomeno psichico cognitivo cosciente autocosciente alcuni sono di natura di contesto storico e culturale alcune secondo me sono anche proprio di come si è evoluta la psiche che si è evoluta principalmente a livello di funzione biologica per ottimizzare la fitness biologica quindi non è che la nostra psiche si è sviluppata per perseguire la verità la sapienza ma si è sviluppata principalmente per l'adattamento per sopravvivere, nutrirci e riprodurci e poi c'è un terzo livello di miopia che è di natura personale, caratteriale e biografica questo cos'è una delle cose che perdiamo di vista? l'eccezionalità, per quello che ne sappiamo del fenomeno proprio cognitivo e cosciente cioè non è che si tratta solo della mia psiche, dei miei processi cognitivi della mia coscienza come se si reificasse questo assunto assolutamente discutibile che noi stiamo qua e poi c'è l'universo noi siamo una delle varie espressioni del fenomeno cognitivo del fenomeno autocosciente dell'universo senza cascare adesso in un'inflazione statica prendo sempre la giusta misura è giusto anche capire allora però qui dobbiamo fare due precisazioni io insisto sempre su MacKill che secondo me è un testo di riferimento metà del nostro cervello diciamo a grandi linee si è sviluppata per necessità a breve termine di sopravvivenza per la manipolazione l'altra metà no e ben venga che ci siano le due cose poi per quanto riguarda l'adattamento benissimo la psicologia evoluzionista però ricordiamoci che nell'evoluzione lasciando stare l'umano e quindi per l'umano è un problema perché bisogna analizzarle molti caratteri che a noi sembrano adattativi sono stati creati come by product come caratteristiche secondarie di altri processi di tipo genetico o di tipo ecologico quindi ogni caratteristica dell'umano non è detto che sia adattativa ce ne saranno moltissimi anzi il problema qual è e ci sono delle caratteristiche dell'umano adesso che sono anti-adattative nel senso che magari certe forme di aggressività a prescindere da come sono state create se hanno avuto una volta una funzione adattativa o se sono venute fuori per certe contingenze adesso hanno una funzione anti-adattativa quindi dobbiamo considerare tutte queste cose l'altro aspetto che te sottolinei è che insomma il mondo noetico cambia la temporalità dell'universo cioè è chiaro che i dinosauri sono morti distinti però il fatto che siano diventati oggetto di narrazione addirittura condivisa popolare non è solo gli scienziati anzi sono soprattutto i bambini il fatto che ci siano state delle riproduzioni molto valide dei dinosauri e statiche e dal punto di vista dei film il fatto che si è persino ipotizzato cosa che fortunatamente è molto molto improbabile che i dinosauri possano tornare al mondo prendiamolo come esperimento di pensiero ma non è il caso di insomma è meglio lasciare come si dice in Jurassic Park certi essere meglio lasciare gli estinti ma a me interessa lo diceva proprio uno scienziato esperto di sistemi complessi certo però a me interessa l'esperienza di pensiero vuol dire che l'umano ha introdotto delle temporalità differenti poi il discorso della cosiddetta ricreazione di specie estinte non vale per i dinosauri speriamo che non valga però per i mammut è molto più concreto perché i mammut abbiamo del DNA congelato e loro sono abbastanza simili agli elefanti per poter introdurre il DNA dei mammut in un uovo di elefanti allora è chiaro che non crei un mammut proprio tale e quale no? ma crei un ibrido diciamo così tra il mammut e l'elefante però voglio dire di ibridi in natura ce ne sono tantissime no? quindi c'è questo potenziale creativo dopo io non faccio il discorso se è un bene o un male no? però che l'umano sposta tra l'uni vincoli che venivano dati dall'irreversibilità temporale te dici spesso no? che il vivente ma anche l'umano è un'isola di negatropia no? e certamente una delle caratteristiche della coscienza è che ha una temporalità molto diversa della irreversibilità che poi non sappiamo bene se è fisica in quanto tale o se è una lettura che viene dato della fisica a livello cosmologico diciamo che dal punto di vista evolutivo l'irreversibilità è acquisita però la coscienza umana sia pure in maniera limitata pone delle altre possibilità appunto l'esempio più clamoroso sarebbe il dinosaurio e il mammut ma quando noi interveniamo su un batterio noi cambiamo le regole dell'evoluzione che sulla terra magari sono miliardi di anni che stanno avvenendo quindi la nostra coscienza è un lavoro creativo dopodiché come tutte le grandi esperienze ha anche i suoi rischi ma quello non dobbiamo allora siccome la coscienza ha i suoi rischi allora dire che è solo un epifenomeno e che non ci interessa la coscienza come dicono taluni personaggi molto poco interessanti invece ci rendiamo il paradigma che faccio io è che sì in natura ci sono tante specie fanno tutte parte del mondo naturale però ogni specie singolare e ogni specie è interessante dopodiché è chiaro che è interessante il polipo ma noi non siamo polipi intanto cerchiamo di interessarci alla nostra specie e quindi molto spesso si parla di neumanismo però rimane molte volte confinato solo nell'ambito politico sociale invece il fondamento del neumanismo sono proprio le scienze biologiche evolutive psicologiche e neurologiche ci vuole una nuova alleanza che guarda caso poi ha trovato nel corso degli ultimi decenni anche una porta aperta dalla fisica da questo punto di vista provo a porre delle domande socraticamente delle domande più che delle risposte per quantomeno aprire uno spazio di interesse per chi ci segue cioè se includiamo appunto allora che in qualche modo il prendermi cura l'incrementare la consapevolezza di come io funziono e anche assaporarne goderne del mio essere psichico pur nelle difficoltà è un'avventura non è una vacanza non è solo un'avventura individuale l'individuo in qualche modo è un contenitore è un laboratorio all'interno del quale viene ma in qualche modo è anche un prendersi cura un fiorire del nostro piccolo del fenomeno cognitivo e cosciente universale attraverso noi che siamo tante foglioline e tanti frutti un altro un altro stimolo è cos'è la creatività anche dal punto di vista psichico Morel ci ha riflettuto tanto su questo non è arrivato a una conclusione sono più delle aperture di interrogazioni anche considerando il tema dell'emergere del nuovo sull'ordo del caos quindi anche a livello fisico biologico e psichico cioè è proprio l'emergere di qualcosa che prima non c'era e non era assolutamente prevedibile semplicemente contando gli elementi singoli che lo precedevano terza questione che si ricollega a queste due aperture è come coniugare l'esperienza la dimensione anche esistenziale dell'essere gettati come fenomeno individuale biografico con le proprie felicità con le proprie disgrazie no e il tutto no vedete che sono tanti temi che permettono però di far dialogare anche una dimensione psicologica individuale biografica fatta anche di piccole cose di piccole conquiste di piccole sfide quotidiane non dimenticandoci che comunque senza esaltazioni strane noi comunque siamo l'espressione di un qualcosa siamo inseriti dentro un qualcosa che è molto più grande di noi non so se oggi tocchiamo solo questo aspetto che hai messo in evidenza adesso cioè che non solo la specie umana ha nella sua unicità la sua caratteristica più forte il suo valore più forte la specie umana è importante perché è unica e singolare non perché è il padrone del creato del cosmo come minimamente ma anche ogni individuo è unico allora noi oggi ci rendiamo contro contro il determinismo genetico che c'è una cosa puramente falsa nel senso che io dico sempre ma tutti gli studiatori di genetica i geni non determinano alcun che sono dei vincoli che definiscono lo spazio di possibilità dello sviluppo di un individuo ma poi il gene interagisce con l'ambiente di sviluppo dell'organismo e quindi dal gene e dall'interazione con l'ambiente nasce il fenotipo poi c'è tutta la gamma che non avevamo trascurato dei fenomeni epigenetici che i geni non rimangono inalterati nelle singole cellule ma a seconda di tantissimi percorsi di sviluppo vengono qualche volta vengono rimodulati qualche altra volta bloccati insomma adesso l'epigenetica sapete che è un ambito enorme che qui non dobbiamo toccare poi all'epigenetica si aggiunge il discorso della plasticità neuronale cioè la storia di ogni persona da quando sei nel ventre della madre quando vieni al mondo è data anche dalle singole modulazioni di tutta quella rete di neuroni la cui complessità per dirla con leopardi ci disparurano ogni modulazione ogni rete neuronale è unica chiaro che poi ci sono dei vincoli se no noi non potremmo studiare niente dell'umano però questi vincoli sono molto generali e in realtà il percorso dal gene al comportamento umano è ogni volta diverso e ogni volta unico allora qui è molto difficile perché bisognerebbe anche entrare in gioco un certo discorso sui valori sociali ma il valore fondamentale di ogni essere umano sta nella sua unicità biologica cognitiva e psicologica non c'è un essere umano uguale agli altri chiaramente tutto questo se prendiamo coscienza di questo c'è anche la necessità di sopportare questa come dire l'empowerment degli umani sapendo che si va bene i modelli va bene adattarsi ad altri modelli sociali ma alla fine il percorso dell'individuazione come abbiamo detto prima è capire le proprie come dire la propria centralità ma adesso lo ridico non solo in senso astrattamente psicologico ma proprio incarnato in un singolo corpo e in una singolo in un singolo cervello ma sappiamo che il corpo è anche più importante del cervello ecco spero di aver dato la risposta all'ultima parte del tuo intervento poi vi prendiamo da qui la prossima volta grazie un saluto a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti